amigail dove vai mamma ti ricordi che mi avevi dato il permesso di andare a casa della mia amica ginevra te lo ricordi e perché ti porti quello zaino lo zaino perché ginevra aveva lasciato delle cose a casa nostra e poi le devo riportare ah sì fammi vedere un attimino che cosa c'è dentro lo zaino fammi vedere perché te devo far vedere che cosa c'è dentro lo zaino che non ti fidi di me sono cose di ginevra amigail non mi prendere per insederli fammi vedere che cosa c'è dentro il zaino ormai sono grande devi rispettare la mia privacy lascia perdere che faccio io fammi vedere che cosa c'è qua dentro privacy che privacy c'hai tu dentro questa casa che bravi amigail tranquilla tranquilla risparmiati lo so sono in punizione grazie 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 a tutti.